La violenza è uno strumento politico efficace quando riesce a raggiungere gli obiettivi che si era prefissata. Mastratri, genocidi, processi di disumanizzazione dell'uomo e distruzioni sociali. Avete citato la ricostruzione dello Stato democratico italiano che era stato smantellato. Io penso che le scuole dovrebbero considerare la straordinaria opportunità di partecipare a un bando di concorso che prevede anche la possibilità di un dibattito e un dibattito disciplinare sui temi della storia perché i ragazzi in questo modo entrano dentro i problemi complessi della storia, della contemporaneità ed è il modo più naturale per renderli parte del loro vissuto e parte dell'esperienza che si porteranno dietro. E attingere al patrimonio della nostra storia per condurre riflessioni sul presente, lavorando per altri in gruppo che è un altro valore importante e mettendo mano alle fonti della storia. Allora la gara è stata entusiasmante, è stata una giornata molto impegnativa, la preparazione è stata ancora più impegnativa però ne valso assolutamente la pena. È stata un'esperienza sicuramente molto interessante, non è una cosa che capita spesso comunque di dibattere in un aula come questa. Noi siamo contentissime di tutte le cose che abbiamo imparato e soprattutto di quanto abbiamo dimostrato non solo ai giudici ma anche a noi stesse oggi. Anche il confronto con altri ragazzi di altre scuole di Torino ci ha permesso anche di sfruttare questa occasione per coltivare magari delle relazioni che ci porteremo anche dietro al di fuori di quest'aula.